Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qua su FIFA Qualche ora fa vi avevo fatto un post sulla pagina di Instagram Che vi lascio sotto in descrizione come sempre Con scritto se mi potevate lasciare qualche sfida da fare su FIFA Io ne ho prese due di queste e oggi andremo a fare la crossbar challenge consigliata da XXAlemare01 Solo che è una crossbar challenge non su punizione ma su azione libera Ok, ho levato la vibrazione Noi abbiamo un giocatore, un attaccante del trapani Sodinia, eccolo qua, mamma mia quanto cacchio è forte, non è vero fa schifo al cazzo Avremo 15 tiri a disposizione, io non dovrò mai entrare in nego di rigore E devo cercare di prendere la traversa Se prendo la traversa non faccio nulla Mentre se non la prendo faccio 4 flessioni e se prendo il palo ne faccio due Così, perché mi voglio proprio del male Quindi io direi che possiamo iniziare col nostro primo tiro Ed è red, quindi devo fare 4 flessioni Ok, facciamo le nostre prime 4 flessioni 1, 2, 3 e 4 Iniziamo col secondo Che cazzo madonna, perché prima le beccavo sempre? Mamma mia, quanto faccio schifo per dire le traversa 1, 2, 3 e 4 E la madonna, siamo già a 30 Oh la, l'ho beccata L'ho beccata, l'ho beccata signori, signori l'ho beccata 1, 2, 3 e 4 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 E siamo a 2 E poi mi spacca la gamba 1, 2, 3 e 4 1,2,3 e 4 1,2,3 e 4 1,2,3 e 4 E che spero di portare un altro verso Sì, e andiamo, la concentrazione Signori No, peccato 1,2,3 e 4 1,2,3 e 4 Oh, mamma mia Ci mancano 2 E va bene Quindi non prese 5 se non mi sbaglio Sono prese 5 se che dire Questo piccolo video In questa sfida Finisce qua E noi ci vediamo alla prossima Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli